Vuoi acquistare crediti o FIFA points a prezzi bassissimi? Allora passa da Golda.com con il link in descrizione e in più con il codice Justizia avrai un ulteriore sconto Buona prima ragazzi, qui il Justizio ci siamo tornati con questo nuovissimo video perché oggi faremo un grandissimo e spettacolare pack opening Prima di iniziare lasciate un bel mi piace se volete spacchettare pure voi per trovare Messi, Hero e compagnia cantante passate da Golda con il link in descrizione Abbiamo i premi della Weekend League Il draft vinto più 5 pacchetti che hanno messo, se non mi sbaglio, da 50.000 crediti apriremo tutto ciò, quindi mi raccomando è tanta roba quindi lasciamo un bel mi piace Allora, andiamo innanzitutto a ritirare i premi del FUT Champions oro 1, quindi con la nuova squadra e non è male, non è male perché era la prima volta che la usavo prima Weekend League che ci facevo, quindi oro 1 è buono, 50.000 crediti e due pacchetti da 100.000 Bene così, siamo a 700k ragazzi ma adesso la cosa principale è il draft perché il draft se vuole, se vuole ci può dare dei premi veramente, veramente devastanti spero che il microfono si senta dato che negli ultimi video ho avuto qualche problema speriamo bene e andiamo a ritirare, anzi no, prima di ritirare i premi vi faccio vedere ovviamente la squadra con la quale, con il quale ho vinto, con la quale ho vinto il draft che è questa qui con il nuovo in forma Martial che è un qualcosa di illegale e poi tutto il resto la squadra non è neanche 100 d'intesa, però girava molto bene sta squadra quindi sono veramente contento, ho vinto abbastanza facilmente la partita più difficile paradossalmente è stata la terza, la seconda addirittura 5 a 4 che premi ci darà? Scopriamolo insieme vai, vediamo un po' ragazzi, speriamo un pack da 100.000 dai, come on da 50, ok, va bene da 50k al classico premio almeno non è il pacchetto di merda da 25.000 io mi accerto che tutto sia registrando perché nel caso trovassimo qualcosa è tanta roba allora, solo in questi pacchetti abbiamo 250k di pacchetti da aprire però ovviamente prima ci apriamo sto pacchetto oro e poi ci apriamo i pacchetti nel negozio perché così speriamo bene allora, in questo momento ragazzi, sono appena usciti i premi ovviamente, non so, non ho capito bene se Messi e Hero si può trovare nei pacchetti con gli if del tipo fuoriclasse o top 100 però noi speriamo di trovarlo in questi pack qua che non sono né fuoriclasse né top 100 andiamo con il primo pack da 50.000 non è walkout mi basterebbe anche un ibra perché lo vorrei comprare, lo vorrei usare nella prossima weekend league se lo trovo, ovviamente è meglio andiamo col secondo pacchetto finora nel primo pacchetto la merda secondo me anche è walkout e è blu, attenzione Fekir, no, è malo io spero di, cioè voglio trovare Fekir perché diciamo tra il non walkout è il migliore però non lo troviamo troviamo solo i stessi, sempre gli stessi giocatori ma lo ne ho trovati, 20 ne ho trovati in questa settimana vabbè, comunque almeno meglio di niente tre pacchetti rimanenti dai, ti prego, Esports FIFA please walkout no, rip vediamo se if non è però almeno è sfera grande dai, almeno è sfera grande banega, banega, banega ok, due pacchetti dai, due pacchetti walkout walkout mamma, Messi o Ronaldo Messi o Ronaldo oddio oddio no no, rega, no chi è? Argel Aguero, ti prego Aguero Aguero, Aguero, Aguero oh, no vabbè che Messi è COC in questo momento quindi è il momento, diciamo, meno troll per trovare Di Maria però Di Maria fa schifo cioè, non è che fa schifo, non vale nulla cioè, in questo momento con i prezzi crollati in quel modo quanto potrà mai valere Di Maria? vabbè, dai 17k da merda va bene, va bene però almeno walkout almeno, almeno mi ha fatto un infarto poteva essere Messi usciamo e rientriamo allora, ci abbiamo ancora pacchetto da 50.000 nel negozio e poi ci abbiamo i due pack da 100.000 e un altro da 50.000 quindi speriamo che ci escono due walkout di fila come on rip vediamo se è un if o un blue niente, questo è il più brutto tra tutti chi è? Williams 83 è il momento della verità col pacchetto da 50.000 e due pacchetti da 100.000 rega, lasciate un like perché in questo momento possiamo trovare Messi o Ronaldo Messi o Ronaldo versioni speciali insieme non ci sono quasi mai quindi andiamo col pack da 50.000 del draft vinto mai trovato nulla nel draft vinto mai trovato nulla di costoso nella weekend league quindi speriamo sia la prima volta giocatori rari non è walkout vediamo un po' chi è sfera grande ma non è Ramsey mamma mia agghiacciande agghiacciande ragazzi ok ci possiamo fare sicuramente qualche tot garantito team of the knockout stage garantito dai pacchetto da 100.000 ti prego eSports no spec vai con uno spec vai no spec non è walkout rip no no dal pacchetto della weekend league mi dai fonte fonte già l'avevo visto che era lui ti prego non possiamo concludere il video cioè avete visto pure voi c'è la wiga oro uno oro uno manco un if dai Ciro immobile Ciro Ciro vai no regà non ho parole è blu chi è Fekir eh vabbè regà però ma c'è non ci faccio nulla cosa che cos'è regà io me ne faccio qualche team of the knockout stage garantito perché non mi rifiuto veramente di concludere così dovrò comprare gli if ma non mi interessa ok ragazzi ho fatto due pacchetti team of the knockout stage garantiti perché non si poteva concludere in quel modo questo pacchetto opening cioè mi rifiuto quindi abbiamo pure questi otto pacchetti oro da aprire che sono veramente una rottura perché non servono a nulla andiamo ci apriamo il primo questo video già sta durando un'infinità andiamo vai non è walkout oddio dammi Fekir almeno dammi Fekir oddio si l'abbiamo chiamato Fekir oh sono contento sono contento perché è quello che vale di più tra i non walkout ed è un ottimo giocatore come potete vedere 4 stelle skill pure quindi ragazzi è tanta tanta roba potrei venderlo e ci farei 85k 85k non lo so però però vabbè dai per il momento teniamolo vedrò vedrò come comportarmi non è walkout però è Fekir quindi va bene vediamo se l'ultimo pacchetto ci dà la gioia 3 2 1 lasciate like se ancora l'avete fatto vai ovviamente non è walkout vediamo un po' oddio questo mamma mia ragazzi che brutti stiva che oggi non era proprio giornata ce ne abbiamo trovato tra carte blu non so quante ma tutte di merda ce ne abbiamo trovato tipo 4 perché Uwedes Mallow Fekir e lui 4 però manco una decente ragazzi penso di 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 smettere qua insomma con i pacchetti team of the knockout stage garantiti perché cioè non se può non se può quindi lasciate un bel mi piace mi raccomando iscrivete al canale se ancora avete fatto purtroppo rega io cioè ci ho provato ora mi aprirò un draft e vediamo se riesco a trovarlo almeno là a Messi ci vediamo un prossimo video vi ringrazio sempre per la visione ciao ciao